Il piano per domani è così. Voi venite qui per piacere, non tardi, perché questo è un tempo vostro, il vostro tempo per adattare qualcosa, per capire un po'. Voi iniziamo il lavoro con l'esercizio leader, ok? Dopo l'esercizio leader, voi lavorate con quattro passi, vostra scelta, albero di mele, quadro, spuntare, cammello, cammello e scimì, con quattro passi e questo poi devo fare, ragazzi, quante volte, quanto passibile, quanto passibile, quando uno, ah, no, qua, là, è così. Per ricapitulare questo, per riflesso, per riflesso, così, e sempre attenzione sul centro fisico, ogni presentazione, ogni presentazione, quando vuoi fare esercizio, quando vuoi qui, questo è subito il centro fisico. Mastrare le vostre creazioni, i vostri lavori, ballo, attenzione qui, è solo con queste cose, questo è un'altra abitudine, so, che significa, insomma, noi devo studiare non tante cose, prima, quattro passi e secondo, cantare con il pubblico, questo è un'altra cosa, essenziale, assenziale, assolutamente, guarda a occhi, non paura, guarda a occhi, difficili, ma forza, guarda a occhi, trovo cantato, lavoro per persona, per una persona, trovo persona, guarda a me, e per questa persona fa diverse cose, ta, 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 va via di questo punto debole, e questo non è facile, perché noi pauriamo, ma devo fare, quattro passi, cantato a occhi, attenzione sul centro fisico, e basta, solo, basta, basta, questo laboratorio è dedicato solo a questo, ricordo, queste tre cose, cantato con il pubblico, quattro passi, lavoro con il centro fisico, punto, niente di più, un'altra cosa è, sì, importante, interessante, possibile fare, ma è questo più importante, è lento, lento, non risultati, non sempre guardo per risultati, non preoccupazioni, ma qui, guarda, molto semplice, tutto semplice, io credo sì, sì, io do, c'è problemi, qualcuno ha problemi personali, con non sicurezza, con pensieri negativi, durante questi giorni, vieni, o no, sì, o no, no, liberi, liberi per impressioni, per espressioni, che cosa vuoi, voglio fare, perché per me ancora, questo è una parte molto importante, libertà, fare errori, libertà, fare esperimento, e no preoccupazioni, con risultato, questo ancora non è competizia, chi è più grande, più, con più abilità, chi più, meno abilità, questo non esiste, questa cosa, categoria di giudizia, chi è più, no, qui solo giudizia, che cosa io ho fatto con me, abbastanza, per, 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 per andare via, di me, questo, punti deboli, e questo, sì, importante, e questo competizia, chi è più avanzato, chi è liberarci, e chi è rimasto un po' qui, con problemi personali, che, che blocca, vostra abilità a fare qualcosa, solo questo, competizia, sì, ma la persona che è rimasta qui, devo, che cosa è, devo fare meditazione, su questa idea, su questa idea, so, chi è meditazione, una lista, creare una lista, dividere due parti, i miei punti buoni, i miei punti deboli, scrivi, che cosa è buona, vuoi, che cosa è, vuoi penso, è positivo, e qui scrivi, che cosa vuoi penso, è negativo, che cosa vuoi, paura, che cosa vuoi non sicuro, tutto visualizzazione, fa una, come si chiama, revisione di stesso, che cosa è qui, che cosa, chi è io, insomma, chi è questa persona, che cosa è qui, io sono a questo punto, per capire meglio, che cosa, che cosa io voglio, chi è, io, dove voglio andare, che cosa è, che i miei problemi, io voglio verbalizzare, così, in voce, dice, con me stesso, voglio fare una cosa, anesta, solo da questo punto, è possibile, cambia qualcosa, anesti con stessi, nessuno, solo io, ok, io è così, mio problema è questo, io voglio, ora, guardo il mio problema, senza paura, senza niente, ma, e sì, questo problema esiste, va bene, e questo problema esiste, va bene, e quando voi guardate questa lista, è più produttivo il vostro lavoro, perché voi, anche per voi, è possibile formulare, che cosa è, che cosa è, e per questo cosa, è possibile trovare una soluzione di un tema, o chiudere il tema, o eliminare questo tema, non esiste di più questo tema, per esempio, e questo, cose che, positivi, voi pensate, ok, questa è una cosa positiva, voglio rinforzare così, e stanno in questa posizione, per esempio, va bene, persone con volontà di aiutare altre persone, questo esiste, va bene, io voglio sviluppo così, e questa è una cosa buona, e devo avere rispetto stesso, perché io sono anche così, questo niente di ego, ego quando tu sei in centro di universe, io sono, no, questo è una persona oggettivo, io sono così, questa è una cosa buona, questa è una cosa non buona, questo è molto buono, perché, che è successo? Tante volte, noi penso, in caso di noi fare qualcosa non è giusto, e noi diciamo, oh, io sono così, io sono così, no, no, io sono così, parte di mio è così, un parte, ma io sono diverso, io sono un figlio di luce, di amore, di gioia, non è così, è così una cosa che soffre, che viene durante la mia vita, eccetera, eccetera, questa è una filosofia, una filosofia di vita, di vita. Io credo, io ho fatto tantissime volte questo anche lavoro, perché per me è anche molto importante, ho volto la mia vita, per capire meglio perché così, perché così, perché così, perché così, e scrivo, per capire meglio che cosa è successo con me, sì, ma perché così, perché tutte queste cose, non so come ancora ripetiamo, effetto di nostra attività, nostra attività teatrale, e in generale è vita anche, solo così, collegato, questo collegato, in caso noi voglio fare qualcosa buono, e devo pulire questa casa, questa casa, devo pulire, pulire, pulire. Io ho fatto la mia pulizione con confessioni, io sono membro di chiesa russo-ortodossa, e per me questo via abbastanza chiaro, io ho fatto la mia pulizione, quando qualcosa è successo, ogni persona trova il suo modello di pulizione, pulizia, che cosa, come pulire questa casa, e che modo, non lo so, questo ancora molto individuale, non esiste, per me, io ho fatto scoperto, e per me questo serve, e questo è abbastanza sicuro, quando condividere con persone che io credo, fiduci, è possibile, anche capire meglio che è successo, anche sentire qualcosa, ma questa procedura è molto importante, pulizione, come noi vestiti, il nostro vestito, noi devo pulire lo stesso, il nostro animo, il nostro spazio spirituale, eccetera, eccetera, chiaro, e così cari ragazzi, ok, c'è domande, 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 martedì, mercoledì, mercoledì, domande, domande, c'è capelli, diverso tipo di capelli, per giovedì, per piccere, porta diverso tipo di capelli e naso rosso, e anche tre aggetti della casa, semplici, semplici aggetti, molto normale, tre aggetti di casa, ok, tipo quinti, tipo due cose, semplicissime, perché un altro tema, noi lavoro con aggetti, ok, più o meno è così, noi non risolveremo il problema con spazio, sì, no, per ora, piano piano, sì, piano piano, sì, non lo so, e questo perché è anche in teatro d'India, sì, esistono, ma per il nostro... La stasera è domani mattina, sì, esattamente, sì, per me è meglio qui, giù, meglio per il mio spettacolo in casa, perché è anche preoccupato, e possibilmente io bisogno di una persona che fa luce, c'è per persone, posso trovare persone... Appuntamenti? Per mio, per mio spettacolo e anche per nostra presentazione. Ma che te li punta o che sta in console? Che cosa più facile per nostra classe, non necessario tanto... Appuntamenti? Appuntamenti, sì, sì, ma per mio spettacolo sì, console... C'è persona qui, posso trovare, perché devo fare una prova con questa persona, perché c'è persona con audio... Tu sei, tu sei tesore, tu sei lì tutta, no? Che donna, che ragazza, grazie, ma tu sei, sai, come fa così? Luce? Sì, non so fare l'elettricista, non so attaccare i cavi a dimme, però ci sarà... Ma c'è qui, sì, persone che aiutano... C'è, i cambi scena, sì... Buio, punti, pario punti, tu sei capace, mamma mia, guarda lì... Wow, va bene, va bene... Sì, perché... Sì, 12, per piacere, gennaio, tutti venuti vedere il mio spettacolo, sì... Questo è una cosa bellissima... Ok... Più o meno... Più o meno così... Non c'è più... Piedi... E facciamo la nostra... Conclusione... Il nostro... Ok... Un po' di spazio... Ora hai notati con circa... Oh... Noi subito... P opini di spazio... Dai ragazzi, facciamo tutti così... Sì, facciamo tutti così... Dai ragazzi, facciamo tutti così... Sì, facciamo tutti così! Dai ragazzi facciamo tutti così Sì facciamo tutti così Dai ragazzi facciamo tutti così Sì facciamo tutti così Sì facciamo tutti così Dai ragazzi facciamo tutti così Sì facciamo tutti così Dai ragazzi facciamo tutti così Sì facciamo tutti così Dai ragazzi facciamo tutti così Sì facciamo tutti così Dai ragazzi facciamo tutti così Sì facciamo tutti così Dai ragazzi facciamo tutti così Sì facciamo tutti così Dai ragazzi facciamo tutti così Sì 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 facciamo tutti così Dai ragazzi facciamo tutti così Sì, facciamo tutti così! Dai ragazzi, facciamo tutti così! Sì, facciamo tutti così! Dai ragazzi, facciamo tutti così! Sì, facciamo tutti così! Dai ragazzi, facciamo tutti così! Sì, facciamo tutti così! Dai ragazzi, facciamo tutti così! Sì, facciamo tutti così! Dai ragazzi, facciamo tutti così! Sì, facciamo tutti così! Sì, facciamo tutti! Sì, facciamo tutti! Sì, facciamo tutti! Grazie. Grazie. Grazie.